buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo del concorso per dirigenti scolastici concorso ordinario per 587 posti veniamo subito alla prima domanda sono un docente di ruolo che non ha ancora superato l'anno di prova potrò fare domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico allora tra i requisiti per partecipare al concorso per dirigente scolastico c'è anche quello di aver superato l'anno di prova per la docenza di ruolo in una qualsiasi ordine o grado di istruzione quindi se sei docente e non hai ancora superato l'anno di prova e non potrai fare domanda per partecipare inoltre ci vuole un'anzianità di servizio tra ruolo e pre ruolo di almeno cinque anni per cui almeno cinque anni di servizio di anzianità ma devi essere docente di ruolo con anno di prova confermato e dunque superato domanda numero due per accedere alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici si deve superare una prova pre selettiva beh questo non è detto l'eventuale prova pre selettiva unica in tutto il territorio nazionale si svolgerà qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a bando a concorso in quel caso dunque scatterà la prova pre selettiva che sarà composta di 50 quesiti a risposta multipla computer base in 75 minuti di tempo per cui il risultato si saprà immediatamente al termine della prova stessa quanti posti sono stati messi a bando per il concorso ordinario per dirigenti scolastici quando scadono i termini di presentazione dell'istanza della domanda di partecipazione i posti previsti dal bando sono 587 non tutte le regioni avranno la possibilità di avere dei posti mancano sicuramente la valle da ossa il friuli venezia giulia e la basilicata la scadenza per presentare la domanda dal 19 di dicembre è fissata alle 23 e 59 del 17 gennaio 2024 speriamo che le risposte date a questi quesiti siano utili ai nostri telespettatori seguiteci ancora su questa tematiche e altre perché anche durante le vacanze natalizie daremo saremo disponibili ad offrire il servizio anche delle dirette delle dirette online su concorsi concorso per dirigente scolastico concorsi a cattedra e tanto altro ancora arrivederci e alla prossima ciao 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 ciao